Non si vedevano da un po' di tempo. Il Presidente della Regione, Paolo Frattura, li ha convocati ieri all'ora di pranzo, ma di pietanze da gustare, neanche l'ombra. Due ore di pacato confronto con i segretari dei partiti e dei movimenti della coalizione di centrosinistra non hanno risolto però il problema politico, solo accennato della rappresentanza a rialza di Molise, ma sono comunque servite a rinsaldare l'alleanza sulle diverse questioni che attanagliano l'economia del Molise. E così si è parlato della filiera vicola, della ITR, dello zuccherificio di piccole e medie imprese, di nomine negli enti subregionali, di riforme e di semplificazione burocratica amministrativa. All'esterno si parla solo di quinto assessore e la maggioranza appare avvitata su se stessa e immobilizzata sull'allargamento della giunta, ha commentato il segretario di rialza di Molise, Mario Pietragupa, ma non è così, ha aggiunto, poiché dalla relazione esposta dal Presidente abbiamo appreso che sono tanti i problemi che l'esecutivo sta risolvendo. Sull'ingresso in giunta di Vincenzo Cotugno Pietragupa ha poi precisato che rialza di Molise a piena fiducia in Polo Frattura e che non è necessario allargare la giunta per rispettare l'accordo preelettorale raggiunto direttamente col Governatore. Comunque, ha detto ancora Pietragupa, nella riunione di ieri tutti i segretari hanno condiviso la necessità di dare la giusta rappresentanza al nostro movimento che è il risultato il più votato della coalizione dopo il PD. Pertanto, ha concluso, sono fiducioso che il problema verrà risolto in tempi rapidissimi. Al termine dell'incontro il Presidente Frattura e i segretari hanno deciso di aggiornare il vertice a lunedì sera e di far partecipare anche tutti gli eletti a Palazzo Moffa targati centro-sinistra. Forse sarà la volta buona per definire la partita di Vincenzo Cotugno, ma resta da capire cosa deciderà di fare il PD. Rute e compagni però questa volta dovranno fare i conti con Polo Frattura, che sul tema appare più che mai determinato a decidere.